È entrato in profumeria come un normale cliente, poi senza farsi notare ha preso alcuni profumi dagli scaffali e infine si è dato velocemente alla fuga, ma è stato incastrato grazie alle telecamere di videosorveglianza. È successo ieri pomeriggio nel cuore della città di Arezzo, in Corso Italia, nei guai, è finito un 28enne di origini rumene senza fissa dimora. Il giovane infatti è riuscito a portare via alcuni profumi per un valore di alcune centinaia di euro, poi è scappato riuscendo a dileguarsi per le vie del centro. Il personale del negozio però si è subito accorto del furto subito, allertando così immediatamente i carabinieri. I militari intervenuti sul posto si sono messi alla ricerca del bandito. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali i militari dell'arma hanno ricostruito la dinamica del furto e identificato l'autore. Dopo alcune ore il 28enne è stato così individuato e denunciato, dovrà adesso rispondere di furto.